No eh? Sinceramente non so cosa farò, ti giuro Ecco Non so niente, non so come sarà dopo domenica Solo che c'è il corso dell'anatore Per l'anatore che devo chiuderlo giustamente Sinceramente Come non tolgo una cosa, diciamo La gestione mi piace E dentro il ruolo dell'anatore c'è la parte gestionale E quella sinceramente mi piace forse di più che quella sul campo Però credo che in generale è stata un'esperienza molto bella La cosa è che la busta 1, la 2 o la 3? Attenzione Una delle tre perché devo andare Io ho il terrore di leggere un'intervista sua fra due mesi, due mesi e mezzo In un giorno d'agosto e su un giornale italiano Dove lei dice delle cose che al momento non può, vuole dire perché è difficile Va Farico, allora puoi dormire tranquillo, non bisogna avere nessun terrore Nessun terrore Forse mi ha aiutato tanto, grazie, ma mi conosci poco No, ok, 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 ma il problema era questo Se c'era qualcosa da dire, io dico L'hai detto Così, così Già di partenza hai sbagliato la domanda No, ma non era, terrore non era negativo Come puoi dire che fra due mesi dirò una cosa che non ho detto adesso? No, terrore cioè di leggere una cosa che Non leggerai niente Federico, dormi tranquillo senza nessun terrore Ok, perfetto Quello che è stato detto è quello che è stato detto e quello che c'è da dire sarà detto Nel momento è tutto qui, niente che è venuto fuori ampiamente in conferenza stampa Volevo proprio chiudere Benedetta con i saluti dei nostri tifosi al nostro Mesta Allora, sì, mi spiace che tu vada via, mi ero affezionata veramente tanto Non era facile visto l'addio di Ancelotti, sei un grande uomo grazie di cuore Grande, immenso Leo, grandissimo uomo con affetto da parte di Antonella Arrivederci Leo, mi porterò sempre nel cuore l'immagine di un uomo che ama E ama davvero tutto quello che fa, grazie infinite da parte di Pablo Leo, sei una persona talmente intelligente che puoi fare quello che vuoi Soprattutto l'allenatore del Milan Grazie per tutto mister, ti vogliamo bene, ci mancherai tanto Lo scrive Antonio Mi sento triste perché abbiamo perso una splendida persona Che ci ha regalato un'infinità di emozioni Grazie di tutto mister Grazie Leo, sperato fino all'ultimo che restassi Ti voglio bene da parte di Andrea D'Alecco E poi, sono tantissimi Grazie di tutto Leo, ci hai fatto vivere bellissime emozioni Rimarrai sempre uno di noi Spero che non sia un addio, ma un arrivederci Te amo da Imola Ciao Leo, sempre uno di noi Antonio da Firenze Grazie Leo, addio Milan Dopo tre anni di te sera non la farò più Volevo ringraziare tantissimo il nostro Leo Perché grazie a lui abbiamo raggiunto il nostro obiettivo Nonostante tutte le difficoltà Solo grazie, grazie Leo Da parte di Hermes da Imola La tristezza che ho provato è quando è stato celluto Ricky La sto riprovando oggi con l'addio di Leo Non ho altro da aggiungere Gabriella 55 Questo è peggio di quello di Cacca Mi viene da piangere Insomma, questi sono i tifosi mister Per cui io proprio Lo lascerei un attimo solo con i suoi tifosi Il suo saluto No, io chiudo con la riflessione che faceva Federico Buffa Io non ho niente da dire Perché io ho il rapporto con il Milan Va oltre qualsiasi cosa Dopo quello che tu vivi nella situazione La vivi Io ho vissuto situazioni molto peggiori Negli anni da dirigente Di situazione di cercare di fare Di non fare Di come fare Queste sono cose normalissime dentro un'organizzazione Io, il mio rapporto con il Milan Sono tredici anni che il Milan mi ha dato un'opportunità straordinaria Questa è la verità Io non esiste Dopo tu fai ragionamenti su quello che è il momento Su quello che è la tua vita Su quello che sono le scelte Su quello che tu pensi per te Su quello che tu pensi per la società Tutto quello che io devo dire Devo dire la società La società sa tutto quello che io penso Su tutto Sulla cosa più critica che posso essere La società lo sa Il rapporto che io ho con la società È chiarissimo Sempre Però Non esiste Non esiste niente Mister Io le credo Mister Io le credo totalmente Quando lei dice Quindi non capisco cosa può succedere fra due mesi No, no Era una Credo fosse un'ipote Mister Io le credo totalmente Quando lei dice Guardate che io non so letteralmente Non bisogna neanche credermi Io sto solo dicendo la verità Se non mi credi va bene anche così No, ci so Io ci credo Che lei non abbia in questo momento Un'idea di che cosa farà Al settembre dell'anno prossimo Le credo totalmente Le credo che lunedì mattina Si alzerà e dirà Beh, adesso vediamo cosa succederà della mia vita Infatti succederà Boh Non lo so Sinceramente non lo so Mister Quindi Guarda Io non voglio neanche Io ripeto una frase che per me Io ci tengo tanto Ringraziare sentimenti è una cosa difficile Perché Puoi sbagliare Sicuramente Misura Per quello Quello che c'è Ci sarà E rimane Però ha visto come entrano le sue scelte Proprio nella vita delle persone Nelle emozioni delle persone Si è vero E la loro nella mia Perché Sinceramente Nella nostra Perché sinceramente per me Oggi non è che è una giornata Io voglio vivere Con allegria Tutto nella mia vita Mi considero un privilegiato E stare A piangere per delle situazioni Che non sono ottime Ma sono Buone Io pronostico che lei domani Alla fine della Questo sicuro Alla fine della partita Quando riceverà il saluto dei tifosi Perché sarà molto forte Lei domani si commuverà Pronostico Io sono rimasto Sul treno All'inizio di gennaio All'inizio di febbraio Che cosa succede in tre mesi Perché lui vada via E questo è quello che io dico È mare